Enel ha inoltrato al Ministero dell'Ambiente le contradduzioni rispetto alle osservazioni presentate dalla Regione Molise, dai comuni interessati, dalle associazioni ambientaliste, dalla provincia di Sernia, fino anche dal Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, fortemente coinvolto nel progetto denominato Pizione II, che prevede il pompaggio e ripompaggio dell'acqua dal lago di Castel San Vincenzo all'invaso di montagna spaccata per la realizzazione di una nuova centrale. L'ente per l'energia elettrica dunque non solo non rinuncia al progetto, ma in un documento di oltre 100 pagine ribatte punto su punto a tutti coloro che hanno presentato nei termini le deduzioni sulla insostenibilità dell'opera. Per Enel, in estrema sintesi, non vi sono rischi ambientali né minacce per la flora e la fauna, in particolare per l'orso marsicano, per il lupo e per il camoscio appenninico che vivono in quella zona. Non vi è modifica alcuna ai corsi d'acqua. Non ci sono rischi per i residenti. È previsto un ripristino dello status quo ante al termine del cantiere. L'impatto visivo dalla bazia di San Vincenzo al Volturno è nullo. Queste sono solo alcune delle motivazioni presentate da Enel. Ora bisognerà attendere il giudizio di impatto ambientale della Commissione presso il Ministero dell'Ambiente. Dopodiché si valuteranno eventuali ricorsi rispetto alla via. In caso di nulla osta al progetto, il braccio di ferro proseguirà nei tribunali amministrativi per valutare la legittimità dell'opera. Per i comitati, infatti, è falso che l'energia prodotta sia pulita. Per rimandare l'acqua a monte è necessario utilizzare elettricità dalla rete, ragion per cui anche la Corte Europea ha escluso i progetti che fanno ricorso al ripompaggio dalle centrali che producono energia pulita. In estrema sintesi, la battaglia è solo all'inizio e sta entrando nella fase più acuta. Grazie. Grazie. Grazie.